La mortadella, la mortadella, piatto pregiato italiano, la mortadella arrivati al punto vita, dove siamo adesso, rappresenta, rappresenta, se state bene attenti ve ne accorgerete, o per meglio dire, le migliori caratteristiche, quelle distintive di questo prodotto, sono, a parte il colore, la viande rose, a parte il colore, sono il laccio e la forma, che potrebbe sembrare la forma di un fallo, 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 voce del verbo, ma, con il profilattico connesso, no? Ma non è un fallo, sono due falli, fallo destro e fallo sinistro, quando arrivi alla vita e stringi il cordone, ti accorgi che dalla vita in giù non senti un cazzo, fallo. Le linee di grasso rappresentano, rappresentano i meridiani cinesi, le gambe sono le riserve, la scorta e quando un generale decide di mettere in campo le sue riserve, le riserve di caccia, la retroguardia, dall'altra parte, se non fanno lo stesso, vuol dire che hanno deciso di perdere. E loro sono le retroguardie, ricordatevelo sempre, i paria, le gambe rappresentano ovviamente, noi italiani lo sappiamo, tutti in segna, rappresentano la nostra potenza. E la potenza, ricordate sempre, è data dalla resistenza. Quindi, il vostro potenziale le riserve. Quindi, i vostri primi passi li sono accumulati di sbattimenti da uno zio a un cugino, ai nonni, ai bisnonni, per andare in vacanza. Non importa, lì c'è la mappa. Non importa, lì c'è la mappa.